Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati su Barbara13441960 Ah no, ah ok, volevo dire su Edith Finch L'ultima volta avevamo scoperto la vita di Barbara Che ritroviamo anche qua, l'abbiamo disegnata già infatti Ed era quella che era sotto forma di fumetto E che era conosciuta per il suo tipico urlo da film horror E avevamo finito l'episodio Quindi oggi vedremo cosa fare Allora, io sto pensando, già vedo un oggetto con cui possiamo interagire Però io sto pensando, se la storia di Barbara iniziava che lei tipo girava Girava il coso, aveva girato il coso che noi avevamo suonato Non mi ricordo ora come si chiama, perché sono stupido Ed era diventata una chiave Non è che lo dobbiamo fare anche noi Intanto interagiamo Possiamo entrare qua dentro Perché? Adesso credo di sapere come mai a mamma non piacesse che giocassi con il carry on Ah, capisco, quindi sì, dobbiamo andare a farlo Allora, aspetta, eh, ok C'è bisogno di spingere con così tanta forza Ok Il Bigfoot, il mio amico Bigfoot Ogni volta che qualcuno mi chiedeva della mia famiglia La prima cosa che volevano sempre sapere riguardava Barbara Va bene Quindi dobbiamo suonare il carry on È proprio strano Con tutte le volte che ho giocato con il carry on Non ho mai scoperto la chiave dello scantinato Allora, quindi, aspetta Mi sembra che da qua si apriva il passaggio segreto O da qua l'avevamo aperto No, da qua si apriva perché c'è la porta Mi sembra di sì, da qua Infatti è già tutto aperto, sì Quindi no, non è qua che dobbiamo andare Non mi ricordo dov'è il carry on in tutto questo Molly, ah, vero che qua c'erano Qua c'erano, vero, gli occhio e i cosi in ogni porta Eh vabbè, dobbiamo cercare il carry on Perché io non mi ricordo dov'era Che non ce l'avremmo fatto Mi chiedo se quel fulmetto avesse ragione Sul fatto che ci fosse una chiave Nel carry on, vabbè Anch'io che perdo tempo però Allora Forse, no, no, aspetta Al pieno di sotto mi sembra O forse al pieno di sopra Però scende le scale molto lentamente Allora È qua il carry on, non è qua il carry on Buono Ehm, qui c'è il coso Dovrebbe essere in giro Forse è più in qua E vabbè, però è tutto buio, ah Non si vede niente Forse dovrei dare un'occhiata a quel carry on vicino allo scantinato Ok, è vicino allo scantinato Va bene Dov'è lo scantinato? Ehm Non lo so Ah, eccolo Sono stupido Va bene Ragazzi, non so che possa succedere Ma facciamolo Possiamo sempre girarlo Ma io lo voglio staccare Vabbè, giriamolo Ehm, va bene Se io continua Si è staccato Continuando Va bene Vabbè, non lo sapevo No, aveva Era la verità Io non mi ricordo poi che succedeva, eh Ci ha dato un jackpoint E la cosa non mi piace Però non mi ricordo poi che succedeva Dopo che giravi il coso E facevi questa cosa Allora Sì, questa cosa me la ricordavo E poi Non mi ricordo più niente C'è uno scantinato Mamma diceva che lo scantinato era vietato A meno che non volessi un'altra puntura Ah, vabbè Ehm Va bene Una volta vidi Eddie Intrufolarsi nello scantinato Trasportando dei pacchetti Ok Allora qua è tutto buio E voi non vedete niente Molto probabilmente Quindi se non vedete niente Scusate Credevo che forse Stesse nascondendo dei regali Qua c'è una specie di frigo Qualcosa Manco io lo vedo Ehm Grazie Ok Sì un frigo mi sa Sì Ma È normale No Non si nota Che qua c'è Un passaggio segreto Non si nota per niente Aiuto Non vedo niente No No Non posso andare bene Ah Non posso passare Perché c'è questa cosa in mezzo Mi sa Ah no Dovevo solo aprirla Voi non state vedendo niente Neanch'io Ehm Ora ci vedo un po' Non so voi Delle luci Va bene Ricordo che una volta Che si è a mamma Dove fosse finito Walter Ehm Walter Non mi ricordo bene Ma Walter No Quello era Kelvin Ok Walter chi era? E ancora non l'abbiamo Disegnato Walter Ancora non l'abbiamo scoperto Però va bene Lei rispose che dopo la morte di Barbara Se ne andò Vabbè Se c'è un filo in tutte queste storie Continua Credo sia che nessuno di noi andò molto lontano Va bene Non voglio sapere perché C'è un altro cosa da leggere Addio a tutti Non posso credere di essere rimasta qui per 30 anni Ehm E questa è la storia di questo tizio Ehm Mi libera tutto il controller Il primo giorno dopo Che uti Vabbè Che inizia Che inizia Vabbè Basta Io non già la faccio più Che devo fare? Come Ah ok Eh 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 Ma dopo pochino Vabbè E questo Ciò che mi ha impedito Di impazzire Non sappiamo cosa Perché io non l'ho letto Avere un programma Vivere Ma lo fate apposta allora Mi aspettavo sempre di morire Il giorno dopo Eh vabbè Ma se aspettai abbastanza a lungo I altrui Vabbè Vabbè Basta Ma Che cosa Ma che è un bunker sto posto? Che cos'è? Sembra una specie di bunker Siamo andati su Sì Sì Secondo Persino il mostro Dell'altra parte Della porta Vabbè Quasi amichevole Era immagino Questo amichevole E li continuava a mangiare E poi un giorno Tutto semplicemente Che succederà ora Si fermò Che vuol dire? Ma Vaglio le mani non erano così prima Vabbè Non ho guardato Può darsi Si stanca di attendere O forse mi stancai di avere paura Mangia E ora che sta succedendo? È passata una settimana ormai La più lunga in 30 anni Una settimana Che esagerazione Saranno passati tipo 4 giorni Ma manco Un minuto Vabbè Devo andarmene Giranno Vabbè Non leggo più Apri È vero Un bunker Ok ok Vai 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 Scendi Veloce però Vabbè Aspettiamo che scenda Ah Luci Do che lei Vabbè Non leggo più ragazzi Leggete voi Basta Non so leggere Qualunque cosa È Molly Solo questo sono riuscito a leggere È Molly Di tutto un poema È Calvin Si è girato Che è successo? È Calvin Solo questi Solo i nomi So leggere io Ma manco bene Prendi Lascia Vai O Martello Ma Un sì sì Un ascia che l'è Che è successo? Ma devo smettere di vivere sempre Sempre lo stesso giorno Anche se la casa Non ho capito Ha rotto il muro ed è scappato Sì Ok Qualunque casa ci sia là fuori Voglio che tu sappia Non giro Non ne leggo più Non giro Cosa sto dicendo? Non leggo più Non impar Non impar Vabbè È un mese Non importa Sono stupido È una sola settimana Non è che viene investito Dal treno Sì Non ci credo Chissà perché me lo aspettavo Non so perché Ma me lo aspettavo E vabbè E ora possiamo disegnare Anche Walter Quindi ha passato 36 anni O 30 Non ho capito È in un bunker E poi è scappato Ed è stato investito Da un treno Perfetto Ci mancano da scoprire Milton Lewis Che non so chi sia Dawn Gus Sam E Eddie E basta E Gregory Vabbè Che devo fare? Ah devo chiuderlo Vero? Mi scordo sempre Che lo devo chiudere dopo Non avevo visto manco Che c'era la foto Sono un idiota Però va bene Ed è vissuto Dal 1900 2000 Cosa stavo dicendo? Dal 1952 Al 2005 Qui ci sono tutte le sue cose Va bene Andiamocene ora Ma qua non era Scusami Qui non era Dove stava scappando? Quindi qua è dove c'era il treno Da cui lui è stato investito Ok E sta caricando Che è successo? Non lo so dove siamo Stiamo andando noi L'importante è quello Porte No aspetta Questo è il frigo Ce ne stiamo andando Non dobbiamo andarcene Quanto posso essere stupido? Non ce ne dobbiamo andare Dobbiamo andare Possiamo entrare nel suo bunker Non ci ho pensato Qua è dove lui sopravviveva Però scusa Se qua era dove lui mangiava Le lattine Sì Vuol dire che qua C'è il passaggio C'è il bunker Sì avevo ragione Credo fermamente Che mia madre Stesse cercando di proteggermi Va bene Apri Aprirò anche tu Perfetto Non so se scendere davvero Vabbè Facciamolo Scendi dai Ok Tieniti Qua devo scendere io le scale Va bene E sono sempre più veloce di lui Qua era dove c'era il treno Avevo ragione Ma se non mi disse mai niente Dello zio sotto la Vabbè Posso solo immaginare Vabbè Non dico più niente Non voglio commettere gli stessi errori Che commise lei Oh oh Questo è il martello Che è rimasto qua Per tutto questo tempo E quello è il muro sfondato Ok Tentare di seppellire qualcuno che è ancora vivo Aia Che hai fatto Stupida Stupida Si è buttata Vabbè Salvataggio vai Andiamo 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 Sperando che non passi lo stesso treno Che Se Ah Potevo già camminare Non lo sapevo Ora che Ne è rimasto solo uno di noi O forse due Credevo fosse giunto il momento Di sentire le storie di persona E scoprire che cosa accadde a tutti gli altri Ok Sto imparando ragazzi a leggere Ma ora temo che Proprio le storie Possano essere il problema Forse credevamo Talmente tanto In una maledizione Familiare Da farla avverare Ok Ce l'ho fatta ragazzi Walter Ah qua c'è la sua tomba Oh oh Vabbè Ma era suo zio Mi sa Walter Credo di aver capito questo Dobbiamo andare di qua Sì Non so se sia giusto Che io metta per rischio Scritto Cosa Cosa Non sai se è giusto Che tu metta per iscritto Forse sarebbe meglio Se tutto ciò Morisse semplicemente Con me No non dire questo C'è una luce Figata comunque Ma ho pensato che avresti Perché Perdo tempo È colpa mia qua Ed è la storia Di cui fa parte Fai parte Fai parte Fai parte Vabbè Vabbè Sì Però anche tu corri Maledizione Non zoomare soltanto Per far sembrare Che sei arrivata Sarebbe ad essere onesti Sebbene Cosa Perché ho detto sarebbe Sebbene Che poi mi hanno finito Di leggere Quindi mettete pausa E leggete voi Perché io non già faccio Mi dispiace Credo che i protagonisti Di queste storie Ci credevano Per quel che vale Qua c'è un ponte rotto Non credo che Deba andare io di qua Ma di là Che poi scusa Walter Qua non c'è mai arrivato Quindi siamo usciti Dalla casa Non ci ho pensato A questo Cioè ragazzi Siamo usciti Finalmente dalla casa Wow Ma la storia Non era sulla casa Ecco infatti C'è un'altra Ma è la stessa E quando osservi la casa Con quella storia Di fantasia Tenacia E folle Non si legge da qua È folle È folle Tutto Tutto sembra possibile Ehm Come Ah ecco Che poi infatti Scusa Uno non può entrare Facendo così Che avevano un cane Vabbè E ora Vabbè Siamo nel cortile Che bello Dobbiamo andare di qua Quindi ci stiamo allontanando Di nuovo Dalla casa Che è successo Credo che siamo Stati circondati Dalla morte Così a lungo Da farci l'abitudine Quale famiglia Finisce di costruire Un cilitero Prima di cominciare La casa Ebbè A questo non ci ho pensato Però Tanto non ho letto Ecco il cimitero È imbarazzante Per me Ammetterlo Ma Il cimitero Degli animali Mi metteva più a disagio Di quell'umano Quell'umano Ah Tre gerbilli Erano miei E due Erano colpa mia Due erano morti Per colpa mia Ok Zoe Coco Tucker Charlie Daisy E Lucy Ah Darfie Darfie Junior Charpy Barpy Farpy Larpie Zarpie E basta È successo È successo No Sven costruì la casa Ma fu Edy A progettare il cimitero Immagino Non lo so Non credo Ah Ecco Qua c'è quello Degli umani Invece Molly Finch Perché tutti questi Quindi sono morti Cioè per forza Molly Finch Infatti tutte le storie Finivano male Tranne quella di Barbara Ma dovrebbe essere morta Per qualche motivo Immagino di vecchiaia Ah E anche Sven Devo scoprire Era disegnato Dentro una foglia Non l'avevo visto Ma forse Il nonno Sven Non c'era bisogno Vabbè E anche Kay A sto punto E anche Sally Vabbè Sajan Quello che è Allora ancora ne abbiamo Molly Finch Calvin Finch Steven No Sven Finch Che ancora Ce l'abbiamo disegnato Ce l'abbiamo qua Però Sven In basso Dove c'è una foglia Però Forse già lo conosciamo Perché vedete che è scritto in nero Anche perché si Lo dovrebbe già conoscere Perché è suo nonno O suo O suo Non lo so Non lo so chi è Però lo dovrebbe già conoscere Ed è di Finch È di Finch È di Finch Ah eccola Ancora la dobbiamo scoprire Ready Finch Walter Finch Che l'abbiamo scoperto ora Barbara Finch Che ci hanno messo pure la stella Quest'esagerazione Secondo me Però va bene E non ce ne dovrebbero essere Degli altri Sono sicura che Il monumento Mia madre cercava sempre Di voltare pagina Ma per Ready Il passato non se ne andava mai Qui c'è una signora È un signore Che si abbracciano tipo Aiuto No non farlo È questo qua Sulla casa Che non so chi sia Vabbè che sta guardando Poteva vederlo spuntare dall'acqua Durante la La bassa marea C'è una nave No un'isola Non lo so che cos'è Credo un'isola No È una nave È Come si chiama Affondata Vabbè Il punto di vista di Eddie Non è mai stato Andiamo Ma più vado avanti Con l'età E più capisco Quello di mia madre E qua ci sono altre tombe Di Sangyan Che lo dobbiamo scoprire Lewis Per Vabbè Si chiede un frate Leggete voi Perfetto Lewis Finch Che l'abbiamo forse Già scoperto No Lo dobbiamo scoprire Anche a lui E Milton Finch Questo ci fa Parlare Non troviamo mai Il corpo di Milton Per cui mamma insistette Affinché Erigessimo Un monumento Vabbè Ma chi è sto Milton Che non avete mai trovato Vabbè Andiamo Quanto è strana Questa famiglia Comunque Non più della mia Però Ci sono così tante Vabbè Una parte di me Crede che questo È qualcosa Delle scale E scoprissi Tutto quanto Di persone Ok Saliamo Le scale Ok Cosa ho detto Salvataggio Ma Rivangando Ora Vedendo qua Ci sono dei piatti Ancora utilizzabili Secondo me Posso zoomare Con due tassi Non chiedetemi Perché Eh vabbè Se lei mi avesse detto Che ci sarebbero State Così Tante salite Non sarei mai venuta Quando ero incinta Di 22 Settimane Ma Ma quindi Incinta ora Vabbè Non importa Un albero Fai piano Che cadiamo Salta Ok Non so perché Ma avevo Un bruttissimo Presentimento Però va bene Ma non poteva morire Perché la storia Continua ancora Ragazzi Non finisce così Non ho mai conosciuto Nonno Sam Ma credo che lui E mia mamma Avessero molto in comune Vabbè Ah allora Non l'ha mai conosciuto Suo nonno Sam Dov'è Sam? No aspetta Lei ha visto di persona Sam Non Sven Però su Sven Però su Sven Non c'è neanche l'anno E neanche su Sanjan Su Sanjai E neanche su Kay Non so E neanche su Incherborg Vabbè Non lo so Che cosa sono Che chi sono Sì Sam Stavamo parlando Entriamo Ecco Perché ovviamente Io le porte le sfondo Non è che le apro Stavo facendo Cosa ho detto Prococovavamo Salve Non posso salirti Sulla testa Non ho detto Voglio salirti Sulla testa Che comoda Questa testa Secondo me si risveglia E ci sbrana una gamba Però va bene Quindi andiamocene Svelta Svelta Un gatto Che picchia questa Questo scogliattolo Perfetto Ehm Una camera da letto Yuppi Oggi sto andando liscio Cioè di solito Ci impiego tre anni A capire la soluzione Oggi invece vado liscio Invece di nascondersi Dalla morte Sam sembrava Di Far di tutto Per andare all'incontro Posso aprire la porta No Ehm Radio Niente Ho visto qualcosa Credo di aver visto qualcosa Mi ero messo così Ma credo di aver visto male No era solo un Qualcosa Mi sa che Perché ho parlato presto Perché parlo presto io Ehm Sì Ah ecco Ecco Ragazzi possiamo recuperare Era così Sam Abbiamo scoperto anche Sam O almeno lo scopriremo Ah Allora Quindi lui era Sam Ok Ci sono delle foto Perché si copre la faccia Va bene Una Una telecamera Che la muovo Down Che era l'altro Che era Qua Bene Questi ricordi Dureranno Ma parlano anche loro qua Ok Mi posso Posso zoomare Posso scattare foto Che devo fare No Non questo No Non voglio mettere bosa Vabbè Non so che devo Ho scattato una fotina Posso fare le foto Perché devo fare le foto Dove Una foto Ah dovevo fare la foto a lei La macchina secondo me è più bella Ah per mettere a fuoco Quindi devo zoomare Ok Ok Fatto Quindi gli devo fare delle foto Dov'è? Dov'è? Qua? Dov'è? Eh Ok No Vabbè Bello No Non era lei Vabbè Non so dove sia Perché per zoomare Devo zoomare Cioè per mettere a fuoco Devo zoomare Ecco C'è qualcuno Ah era lei Che faceva la foto Questa volta E da tenene Eh? Da tenene Da tenene Vabbè Intendo dire Che non sarò sempre qui Da un Deve ricordare queste cose Se vuoi sopravvivere Eccolo Non mi piace Devo farla perfetta Ehm Ah i capelli Eh eh Era perfetta Ok Diciamo perfetta Dai Macchina fotocamera Che macchina fotografica C'è un Ah non vuole Devo fare tante foto Voglio farti una foto Buona però Dai l'ho fatta La foto a lui Non c'è qualcos'altro La tazza di caffè Ma non è che Non gliel'ho fatta bene Ehm Cioè I capelli Sono un po' strani Sai Come Lo metto a fuoco bene Così non è ancora a fuoco Ok Ok No Era buono Era buono Ok Aspetta che sei buono Cosa vuoi ora Allora Secondo me Devo fare qualcosa Un Aspetta che cos'è Poemiz Un fucile Ma non è che Devo sprecare pellicola Ai pesci Non ho capito Che devo fare nulla Aspetta Forse sto capendo Forse ho capito Come mettere a fuoco Non ho capito nulla Ok Dai questa era buona Che devo fare Ehm Un qualcosa C'è qualcos'altro? Un 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 gerbo Che figata Lo voglio Sì dovevo fare questo Dovevo Io pensavo di dove fotografare a lui Invece al cervo E ora che devo fare A lui No a lei Sì Ok questo Dovevo fare Mi sa Fammi vedere Ah che figata Aspetta Aspetta Te la devo mettere In In Aspetta Modalità a fuoco Eh non gli va bene Ah ma non è che devo vedere dove punta Là No Che cosa sta puntando Ah il cervo sta puntando Ok ok Ah c'è io Stai attendo la foto Ah dovevamo farlo allo stesso tempo Così veniva il cervo morto Eh vabbè Eh non gli va bene Ma dobbiamo Ha ucciso il cervo Eh la fotocamera è rimasta là In tutto questo Vabbè Ah mi muovo Ah certo Ok 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 non lo sapevo ragazzi Non lo sapevo Ho messo pausa al video Prima che Lui Sam Morisse Già Eh Ah volete sapere come è morto Mi Non l'ho fatto apposta A mettere pausa Davvero Allora Si era messo in posa Alla fine Si è messo in posa Con il cervo in mano Con la testa del cervo in mano E alla fine Si scopre che il cervo era ancora vivo Il cervo Gli dà una cornata E lui cade dal precipizio E muore a terra Cade e muore E la foto viene scattata Con Con il nonno Sam Che sta cadendo dal precipizio E il cervo che gli dà la cornata E la figlia che dice No Non lo sapevo ragazzi Non Non lo sapevo Davvero Non lo sapevo Che avevo messo pausa Eh Vabbè Vorrei tornare indietro E farvelo vedere Ma non credo Che si possa fare O forse si O forse si No Però aspettate Aspettate Qua c'è la foto Vedete Non si vede benissimo Però c'è Se guardate bene C'è Il nonno A sinistra del precipizio Che viene raffigurato Con una cosa rossa Perché non si vede bene Che cade dal Diupo Il cervo Che gli ha dato la cornata E Quella che ha le mani Verso il nonno Che è dietro il cervo Potete vedere solo la foto No Dovevate vedere il filmato Era una figata E qua c'è pure la macchina fotografica Scusate 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 Scusate